Ciao, dimmi! Ciao, volevo un cono! Sì, cono, subito! Anzi no, la coppetta! Coppetta? Sì! Cono o coppetta? Sicuro? Non lo so! Faccio io? Dai, fai tu! Scusa, eh! Scusa! Ciao! Ciao! Mi fai un cono, quello più grande che avete? Certo, sì! Mi metti... quanti gusti sono? Quattro? Quattro, cinque, dipende, quanti... A me metti sei? Dai! Sì, va bene! Dai, mettimi sei e poi metti... La panna? Sì, grazie! E sopra la panna che ci metti? Un cacao, di grizia... Ah, non il bacon! No, non lo abbiamo il bacon! Ah, vabbè, ok! Voglio anche il biscotto? No, 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 sono a dieta, grazie! Ciao, cosa ti faccio? Mi fai una coppetta vegana, con due gusti alla frutta, di soia, e poi gentilmente se mi metti il cucchiaino non di plastica, ma plastica biodegradabile! Buonasera! Buonasera a lei! Mi può dare nocciola e mango? Mi mette mango sotto e nocciola sopra! Eh, per una questione di consistenza non posso metterle il mango sotto! Ah, allora non mi interessa, grazie allo stesso! Ciao! Ciao, bella! Eh, guarda, sono tutti bellissimi, sono tutti... Secondo me sono buonissimi tutti! So, ci faccio provare qualcosa, magari la fragola? Dai, dai, fammi provare la fragola! Sì, ok! Eh, tu mi fai provare anche la stracciatella, gentilmente! Sì, ok! Mi fai provare anche questo? Sì! Mi fai provare anche quello? Allora cosa ti faccio? Guarda, non me ne piace nessuno! Eh, dai, magari vi passo un'altra volta che fate i gusti nuovi! Ciao, grazie! Ciao! Ciao! Ce l'avete le felpe?